ciao navigatori youtube ha implementato la modalità podcast perciò ogni lunedì andrà di scena una puntata del podcast denominata la foresta dei misteri andremo alla scoperta di misteri casi risolti e strane creature ogni episodio esplora la vita e le opere di una figura storica ma anche i misteri e gli enigmi che hanno circondato la loro esistenza e altri avvenimenti il podcast è un formato fruibile dove la voce narrante è la vera protagonista un format quindi che ti consente di ascoltarlo dovunque tu voglia al contrario del classico video che ha come peculiarità quello di rimanere concentrati sulle immagini e clip ad ogni modo per il resto della settimana l'appuntamento è quello classico con i video quindi ci sentiamo domani lunedì per la prima puntata